Buongiorno a tutti, io continuo la litania dei ringraziamenti a Christian, al Museo e al Comune di Crema per aver creduto in questa iniziativa e per aver fatto davvero un ottimo lavoro. È un piacere essere qui, è un piacere essere con voi, è un piacere rivedere anche facce amiche dopo tanto tempo. A quest'oggi, dopo le mie origini padovane che sono state così a passare menzionate, io alla fine dei miei studi sono tornata nella mia città natale a Trieste, dove ho cominciato ormai, ho fatto i conti 12 anni fa, a collaborare con il Museo di Antichità, che 12 anni fa non si chiamava così, ma questo ne parleremo tra poco. Ora, il Museo di Antichità di Trieste si trova in pieno centro sul Colle di San Giusto, di cui qui vedete una fotografia prettamente turistica, ma è per farvi vedere come sul Colle insistano i monumenti più antichi della città di Trieste, vale a dire il castello cinquecentesco, costruito alternativamente dai veneziani e dagli austriaci, a seconda di chi occupava la città di Trieste nel corso dei secoli, la cattedrale che unisce due chiese medievali e che sorge su un precedente tempio romano, di cui le colonne restano murate all'interno del campanile e sono visibili, e queste tracce che vedete qui della basilica romana e del foro che stava dove adesso c'è il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Il Museo e i suoi giardini si trovano esattamente sotto questa fotografia, non c'è verso di fotografare la cima del Colle riuscendo a metterci dentro anche il Museo, ma questo è per darvi l'idea di dove si trova e questo è l'ingresso, il nuovo ingresso dal piazzale della cattedrale. Ora, il Museo come vedete non ha un nome neutro, ma è Museo d'Antichità Johann Joachim Winkelmann. Questo perché se lo sfortunato Winkelmann non fosse stato ucciso a Trieste l'8 giugno 1768, noi non avremmo avuto un museo archeologico. Perché? Perché la città di Trieste nella persona di un suo storico, Domenico Rossetti, a inizio 800 desiderò espiare la colpa di essere la sede della morte di un così eminente studioso, creando un monumento. Lo vedete qui all'interno della nicchia, questo è un cenotafio dedicato a Winkelmann. Le sue ossa purtroppo al momento della morte erano state ospitate in una fossa comune di una confraternita, per cui al momento della realizzazione del monumento non erano più distinguibili dalle altre ossa, sono conservate assieme a tutto l'ossario della confraternita nell'attuale cimitero della città. Non esistendo il DNA purtroppo non le riconosceremo mai, ma da qualche parte ci sono. Il monumento è un monumento tipicamente neoclassico, opera dello scultore veneziano dell'Accademia Antonio Bosa. Il progetto fu rivisto da Canova stesso, quindi più neoclassico di così, si muore. La volontà di Domenico Rossetti fu quella attorno al monumento, come vedete in questa stampa del 1854, di raccogliere quelle che lui chiamava le pietre antiche della città. Sono facilmente riconoscibili altari funerari romani, iscrizioni e rilievi. Questo perché, tra l'altro, il monumento era, naturalmente essendo un cenotafio, si trovava nel cimitero dell'epoca di Trieste, non poteva stare altrimenti, ma dovete sapere che fino al 1822 il cimitero era di fianco alla cattedrale, quindi il giardino, parte del giardino attuale del museo, fino al 1822 era uno dei cimiteri della città. L'unico tomba che è rimasta in sede è appunto il monumento a Winkelmann, le altre per fortuna le hanno poi spostate con la creazione del nuovo cimitero. E questo è l'ordinamento appunto dell'orto lapidario, quindi il primo nucleo del museo era questa raccolta di antichità, vedete, di taglio molto ottocentesco, quindi con molti frammenti di iscrizioni murate nelle arcate, urne funerarie appoggiate così a fare un po' da balconata, e il cenotafio, vedete, è stato costruito a chiusura del giardino questo tempietto, anch'esso in stile neoclassico, il cenotafio a Winkelmann, essendo in marmo per ripararlo delle intemperie, è stato spostato all'interno di questo tempietto, il nicchione che avete visto nella stampa precedente non esiste più, è stato demolito, e all'interno del tempietto, attorno al monumento, anche oggi ci sono le sculture in marmo provenienti dall'Attica e dal vicino Oriente, però comunque di epoca greca. Il museo è stato ufficialmente fondato nel 1873, la sede iniziale era doppia, vale a dire quello che voi avete di fronte, l'ortolapidario, mentre le raccolte, diciamo, del reperti mobili, cosiddetti, quindi gli oggetti più piccoli, si trovavano invece in un altro palazzo in centro città dove era ospitata anche la biblioteca civica e il museo di storia naturale. E per un periodo anche una scuola superiore, l'istituto nautico, quindi voi capite che in un unico palazzo quattro istituti creava qualche piccolo problema di spazi. Le fotografie che voi vedete in questa diapositiva sono gli due spazi dedicati all'antico Egitto, appunto in questo allestimento a Palazzo Biserini, che era la vecchia sede della biblioteca civica. Fortunatamente nel 1913 il comune di Trieste acquista il palazzo che voi vedete in questa fotografia, che all'epoca era un convito diocesano ma era stato costruito nel 1842 di fianco al cimitero da un mercante armeno naturalizzato triestino, se non che appunto con lo scoppio della prima guerra mondiale i lavori di adeguamento per renderlo una sede museale vengono naturalmente interrotti, le cose si complicano perché Trieste alla fine della guerra passa dall'impero asburgico al regno d'Italia e quindi amministrativamente cambia la legislazione, quindi ci è voluto fino al 1932 perché l'edificio fosse pronto ad ospitare le collezioni. Tornando un momento indietro all'Egitto, la storia della collezione egizia di Trieste si intreccia con questa lunga storia del museo, vale a dire che alcuni dei reperti esistevano a Trieste già prima della fondazione del museo, è il caso ad esempio di questo frammento architettonico, di questo rilievo copto proveniente dal Cairo che è stato tra l'altro uno dei primi oggetti del museo andato in mostra, è stato esposto in mostra a Parigi nel 1931, abbiamo ancora la scheda di prestito negli archivi e facevano parte di una collezione di un'associazione culturale del Settecento denominata gli Arcadi Sonziaci dal fiume Sonzius Lisonzo di Gorizia, città a 35 km da Trieste dove avevano sede originariamente, che sono poi spontaneamente confluite nelle raccolte del museo. E la storia della collezione egizia è fatta tutta di piccole donazioni anche di singoli oggetti avvenuti nel corso del tempo perché la vocazione commerciale della città di Trieste ha portato molti triestini a fare non solo il mestiere di commerciante ma a commerciare con l'Egitto, paese che nel corso dell'Ottocento soprattutto produceva molta canna da zucchero che da noi era merce preziosa in cambio di soprattutto legname, materiale di cui l'Egitto è sempre stato purtroppo avido ma con scarse forniture. E questi mercanti triestini arricchendosi o in molti casi anche assicuratori perché insomma le due cose vanno abbastanza in parallelo come attività, avevano del tempo e del denaro a disposizione per andare in cerca tra gli antiquari di acquisire degli oggetti. Ci sono delle storie interessanti, ad esempio un giardiniere che lavorò nel sito di Assiut e per qualche anno portò indietro una lucerna, un vasetto di vetro, uno in alabastro e due usciabti che dovendosi pagare il passaggio in nave per tornare a Trieste una volta arrivata a Trieste vende questi suoi preziosissimi reperti per qualche centesimo di fiorino siamo ancora sotto l'Austria, al museo. Oppure sempre restando nell'ambito copto questa stola, nella lettera originale viene definita stola di prete copto in realtà adesso noi sappiamo che non è altro che la decorazione di una tunica quindi sono quelle tipiche ricamate in lana sul lino che si vedono in tanti musei è arrivata da Aswan con una lettera di accompagnamento che descrive come questo mio concittadino nel 1909 aprendo una tomba da Aswan e qui non abbiamo voluto indagare in quale condizioni l'ha aperta ci limiteremo ad accettare il fatto trova ancora il corpo di questo, quello che lui crede essere un sacerdote copto dice purtroppo riesco a mandarvi soltanto la stola perché appena abbiamo aperto la tomba si è tutto sbriciolato e quindi ci piace dire che la collezione egizia di Trieste si forma pezzo per pezzo grazie all'amore che i triestini hanno per la loro città ci sono due atteggiamenti possibili o si odia Trieste quando ci si nasce o la si ama se la si ama diventa spontaneo condividere le proprie ricchezze con le istituzioni della città per rendere queste stesse istituzioni più prestigiose come il museo di Padova anche lo scopo di un museo di antichità triestino dell'Ottocento era quello di fornire un catalogo di tutte le antichità esistenti per cui il nostro museo attualmente comprende il giardino del Capitano quindi una parte bassa, qui lo vedete in una foto abbastanza suggestiva di una nevicata del gennaio di tre anni fa dove è ospitato il lapidario medievale moderno quindi tutte le vere da pozzo o le parti architettoniche pregiate degli edifici medievali che sono stati demoliti nel centro di Trieste sono stati salvati in questo giardino c'è poi l'orto lapidario, l'ex cimitero di cui vi parlavo prima che vedete appunto nel suo preso, dando la schiena al tempietto lo vedete preso come è adesso si intravede vagamente questa facciata che vedete lì in fondo è proprio la facciata della cattedrale quindi capite il rapporto dove c'è una parte della collezione lapidaria di epoca romana che è suddivisa anche in una sede di staccata ci siamo espansi all'interno del castello perché non avevamo più posto per cui tutti i materiali lapidei romani provenienti da Tergeste quindi dalla Trieste romana li abbiamo spostati e allestiti all'interno di uno dei bastioni del castello quindi vedete in diverse sezioni a seconda delle aree di provenienza e infine c'è l'edificio, il museo vero e proprio con i suoi tre piani cominciando dall'alto le collezioni classiche riallestite con fatica ma inaugurate tra il 2015 e il 2017 un intero piano dedicato alla preistoria e alla protostoria che è una delle collezioni più consistenti perché sono gli unici materiali dagli scavi che vengono non solo dall'area di Trieste ma ovviamente da tutto il Carso e Triestino e da tutta quella che era la provincia di Trieste prima delle guerre mondiali quindi tutta la parte di siti che adesso si trovano in Slovenia e in Croazia e questa è una sala, tre sale, siamo riusciti per fortuna a riallestirle all'inizio del 2019 quindi insomma pian pianino vedete si cerca di prendersi cura anche di tutte le collezioni e questo è un riassunto di quello che noi ci ritroviamo a gestire in museo la foto che vedete è il simbolo del nostro museo è un ritorno in argento proveniente da Taranto di epoca classica fabbricato sul Mar Nero dove c'erano gli artigiani capaci di farlo e qui vedete un riassunto appunto di quello che è del patrimonio del museo per cui le collezioni più consistenti sono quelle di numismatica e di preistoria come vi dicevo gli oggetti romani per forza di cose essendo Trieste un sito romano ed essendo vicina ad Aquileia il cui museo è stato fondato dopo quello di Trieste per cui fino alla fondazione del museo gli oggetti romani da Aquileia venivano portati a Trieste e poi arrivano i 1398 oggetti vedete l'unica cifra precisa perché è l'unica collezione che è stata completamente catalogata studiata e riordinata per cui abbiamo un totale per farla breve di circa 50.000 oggetti di cui i 1300 e i 1400 dell'Egitto sono anche qui una piccola parte ma una parte che risulta importante proprio perché essendo l'unica collezione egizia in regione e avendo la fortuna di essere comunque numericamente abbastanza consistente attira naturalmente le visite da parte delle scuole soprattutto scuole che arrivano per nostro orgoglio non solo da tutta la regione ma anche dal Veneto a volte chi si trova nella parte del Veneto più vicina spesso si decide di fare delle gite per venire a vedere quello che chiamano il museo egizio ed è il buffo dover rispondere a queste maestre che chiedono possiamo visitare il museo egizio se andate a Torino? sì ma questo per farvi capire quanto nella mentalità dei nostri visitatori questa collezione pur piccola incida abbia questo impatto emotivo molto più forte delle altre come vi dicevo i pezzi sono tanti ve ne mostro solo qualcuno velocemente e per raccontarvi appunto anche delle storie abbastanza curiose questo sarcofago in granito di età ramesside era destinato all'Inghilterra è rimasto a Trieste perché è imbarcato su un brigantino inglese il quale si è fermato a Trieste penso molti di voi sapranno che una delle rotte possibili per i reperti egizi non è solo quella di Livorno ma l'alternativa era risalire soprattutto partendo da Alessandria con pochi giorni di navigazione diretta circa sei giorni si arrivava direttamente al porto di Trieste una volta che sono state costruite le linee ferroviarie transeuropee a quel punto si mettevano i reperti in treno e da lì i reperti potevano di solito raggiungere la Germania perché era più diretto occasionalmente non si sa bene perché comunque questo capitano inglese si fermò a Trieste e la nave aveva bisogno di una riparazione purtroppo il capitano della nave non aveva denaro per pagare il cantiere navale dove si era fermato per fare questa riparazione e lasciò in pegno il sarcofago con un contratto di pegno che durava cent'anni per cui la famiglia proprietaria dei cantiere navale hanno dovuto tenersi questo ingombro perché sono due metri e mezzo di altezza del sarcofago per sei tonnellate di pietra se lo sono dovuti tenere prima al cantiere alla chiusura del cantiere se lo sono dovuti spostare nel cortile di casa c'è una poco lusinghiera foto che non ho voluto mettere per rispetto al sarcofago in cui nel cortile della casa era scenograficamente accerchiato da due cassonetti fino al 1994 e scaduti finalmente nel 1950 ufficialmente il contratto di pegno era scaduto nel frattempo questo sarcofago il museo egizio di Torino aveva cercato di acquistarlo ma il contratto non era scaduto il prezzo non era abbastanza alto alla fine la famiglia si era assegnata a donarlo gratis al museo di Trieste che ha solo pagato il trasporto dalla casa al museo quindi vedete ci piace essere avventurosi alle volte oltre a quello c'è un altro sarcofago in pietra lo vedete molto meno d'impatto appartenuto a una donna figlia di un armatore per cui anche questo è un reperto che noi sentiamo molto triestino ha visto la vocazione marinara della città e il primo di tre sarcofagi in legno sono tutti e tre del terzo periodo intermedio questo è quello per noi più famoso apparteneva a un sacerdote di nome Padiamon poi è stato riusato da un altro sacerdote nelle iscrizioni si vede la cancellatura adesso ve lo mostrerò e questo è stato uno dei primi fortunosi lavori di restauro che siamo riusciti a ottenere grazie al sostegno della fonda QSRL che ci ha messo in contatto con la COP Alleanza non so se qualcuno di voi è familiare ma questa è stata una bella opportunità perché la COP metteva a disposizione dei fondi per dei restauri di opere d'arte per ogni regione e funzionava in questo modo venivano scelti due opere d'arte per regione e poi i soci COP dovevano andare sul sito e votare quale delle due opere volevano far restaurare per fortuna l'Egitto vince sempre molto facilmente perché l'alternativa erano delle sculture linee del 600 del Museo di Udine a me è dispiaciuto un po' per il Museo di Udine ma il sarcofago aveva veramente bisogno di intervento conservativo quindi ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto guardate voi se tocca competere con gli altri musei per riuscire a avere fondi per dei restauri e quindi il restauro è stato anche l'occasione per poter fare delle indagini non invasive soprattutto tutte le varie fotografie all'infrarosso, all'ultravioletto la VIL che adesso è una nuova possibilità che hanno confermato quello che già avevamo visto ad occhio nudo cioè il fatto, lo si vede abbastanza chiaramente qui che ci sono delle cancellature in ogni punto dove compare il nome del proprietario del sarcofago e ci sono due fasi di scrittura sovrapposte la seconda fase è meno leggibile perché probabilmente un intervento di pulitura probabilmente nell'800, nei primi del 900 deve aver usato dei solventi abbastanza aggressivi perché sono riusciti a portare via il secondo strato il nome del secondo proprietario per fortuna si legge all'interno del sarcofago sotto la mummia dove sono riusciti sfruttando un'interruzione della colonna di geroglifici sono riusciti a integrarle invece di sovrapporle quindi in quel punto è l'unico punto dove non si è cancellato la mummia che questo sarcofago contiene tanto per confermare i sospetti di Nicola è una mummia di donna quindi sicuramente non pertinente gli altri sarcofagi sono questi a sinistra vedete il sarcofago di una sacerdotessa anonima sempre i tipici sarcofagi gialli della ventunesima dinastia che ospita anche questo una mummia umana di un uomo di circa 50-60 anni quindi anche qui ci deve essere stato qualche piccolo scambio a un certo punto e infine databili alla ventiduesima dinastia abbiamo una volta tanto un insieme funerario completo vale a dire il sarcofago in legno il relativo cartonnage che vedete a destra con la relativa mummia del sacerdote Passenenhor anche il sarcofago di Passenenhor fortunatamente è stato restaurato questa volta grazie al fatto che era stato richiesto in prestito per una mostra in Cina dove è rimasto come vedete per un periodo abbastanza lungo perché da settembre ad agosto ne abbiamo veramente sentito la mancanza e soprattutto qui nella diapositiva vedete come il sarcofago è partito per il restauro io lo so che normalmente durante le conferenze si cerca di far vedere il meglio le cose che vanno bene e non le cose che vanno male perché la soddisfazione di essere riusciti a fare le cose comunque è tale da dire beh cerchiamo di dimenticarci di tutte le difficoltà però trovo che lo scopo anche di un convegno come questo sia quello di condividere le esperienze per cui l'idea che la ditta di trasporti specializzata avesse sbagliato le misure della cassa di trasporto perché dava per scontato che il sarcofago si potesse chiudere incastrando il coperchio sull'alveo dopo cent'anni che era rimasto aperto è stato un momento di panico e tant'è vedete l'abbiamo dovuto mandare al laboratorio Nicola Restauri che è il laboratorio con cui noi collaboriamo ormai da diversi anni per i restauri del materiale all'Egizio con i piedi che sporgevano di fuori io lo so che sono esperienze che poi capitano più o meno a chiunque nella vita che faccia questo lavoro però volevo condividere questo momento con voi di tutte le mummie del museo sia umane che animali nel 2004 sono state eseguite le TAC e anche qui le cose sono state fatte in quella maniera che io potrei definire alla Triestina nel senso che le TAC sono state fatte gratuitamente perché l'ospedale aveva appena ricevuto la nuova macchina della TAC una Toshiba Aquilion che all'epoca era di ultima generazione una delle prime TAC spirali che si sono avute e quindi siccome c'era la necessità di calibrare la quantità di radiazioni che si poteva sparare su un corpo ha detto beh ma le mummie anche se diventano fluorescenti pazienza e quindi c'è stata questa sinergia grazie alla collaborazione dell'allora direttore della struttura di radiodiagnostica il professor Fabio Cavalli c'è stata questa convergenza di intenti per cui le nostre mummie hanno viaggiato in ospedale con grosso terrore dei pazienti che pensavano di dover aspettare quei 3.000 anni per avere una TAC e sono state analizzate della mummia di Passenenhor l'unica di cui sappiamo anche il nome come vedete nell'immagine oltre a verificare che ci sono pochi amuleti e non ci sono gioielli è stato possibile scoprire la causa della morte perché nelle immagini più dettagliate erano visibili le uova fossilizzate del parassita Trichinella spiralis che per chi di voi non lo sapesse è un parassita che si prende mangiando carne di maiale infetta non cucinata a dovere per cui oltre ad averla conferma che era un sacerdote di livello elevato perché era un sacerdote incensatore quindi uno dei pochi che aveva accesso al sancta sanctorum del tempio dove lavorava era abbastanza ricco da mangiare carne regolarmente ma apparentemente la cuoca non era all'altezza grazie alle TAC sempre nel 2004 come vedete dall'immagine in basso a destra e anche in questo caso in collaborazione con il corpo di polizia è stato possibile effettuare le ricostruzioni dei volti inizialmente le vedete di due delle tre mummie a destra la ricostruzione del volto di Passenenhor a sinistra quello della mummia femminile vedete che i tratti sono bizzarri per non dire altro ma questo perché naturalmente il programma informatico della polizia aveva i settaggi delle persone caucasiche perché a Trieste mediamente l'aspetto è quello queste non ho potuto fornirvi un'immagine perché non le abbiamo ancora ma l'anno scorso è stata tenuta una mostra sui volti nell'antichità sempre collaborando con il professor Cavalli quindi dall'anno scorso sono state riaggiornate sono state rifatte le ricostruzioni a partire dai dati antropometrici i volti sono un po' cambiati sono stati sistemati e adesso al momento abbiamo una ventola che proietta l'oleogramma delle tre ricostruzioni in museo ma naturalmente provando a fare la fotografia le immagini non si vedono quindi finché il professor Cavalli non ci fornisce un'immagine normale dovrete continuare a vedere le vecchie ricostruzioni la collezione continua ci sono canopi lì c'è, lo vedete in alto dei frammenti di un rotolo di papiro il cui resto per fortuna non è andato perduto ma è un papiro che si trova al museo del Cairo per cui Imtraut Murro era riuscita a scoprire il collegamento tra i due musei e quindi nella sua pubblicazione a ricomporre l'intero papiro quindi una volta tanto almeno le cose, c'è stato un lieto fine alla ricerca usciabti e poi si arriva fino alle terrecotte greco-romane pettorali di mummie sia tolemaici che romani la stola copta e ceramiche islamiche frammenti di ceramica islamica di varia natura come vedete, sì abbiamo anche i bronzetti ho evitato di mettervi i bronzetti perché non facciamo altro che vedere bronzetti di solito comunque le tipiche categorie delle collezioni ottocentesche e soprattutto delle collezioni di formazione non erudita e non nobile cioè le persone che andavano e compravano quel poco e quelle cose piccole che potevano portarsi dietro o che piacevano da ultimo però c'è stata una delle ultime cose che sono saltate fuori dai magazzini questa l'ho messa apposta per la dottoressa Ugliano confesso l'ho aggiunta ieri sera sono saltate fuori delle selci di varie epoche preistoriche dall'Egitto a cominciare da quelle sulla sinistra che sono selci definite genericamente paleolitiche in realtà gran parte non sono nemmeno strumenti come si diceva ieri sono schegge o scarti addirittura o addirittura schegge formatesi naturalmente non sono strumenti ritoccati ma all'epoca e stiamo parlando dei primi del novecento si raccoglieva tutto e poi si pensava a decidere cosa era strumento e cosa non lo era e vengono queste sono state donate dal famoso etnologo Georg Schweinfurt all'archeologo triestino a cui dobbiamo la collezione di preistoria e protostoria erano amici si conoscevano si erano anche visti quando il nostro archeologo triestino era andato in viaggio in Egitto era andato a visitare questo suo collega sugli scavi a Tebe e sono interessanti perché hanno ancora le etichette cartacee dal sito di ritrovamento in tedesco ma hanno il sito di ritrovamento le altre invece la scatola in basso destra è stata donata da Sir Richard Francis Burton che era console inglese a Trieste nell'ultima parte della sua vita ma è più famoso per essere stato il primo occidentale a fare un pellegrinaggio alla Mecca travestito da arabo nonché il primo traduttore delle Mille e una notte nonché personaggio insomma con una certa fama abbastanza diciamo avventurosa chiamiamola così che dai suoi viaggi ha riportato questa scatola di 52 la mette chiamiamole così in selce quasi tutti elementi di falcetto probabilmente donandole a un suo amico che a sua volta poi le ha donate al museo le ultime a saltar fuori dai nostri depositi di preistoria in cui io ho lavorato negli ultimi quattro anni sono quelle poche selci che invece sono state collezionate da un eminente paletnologo italiano che è il De Mortillet per cui insomma abbiamo questo nucleo di circa quasi 200 selci e chiunque avesse voglia di venirla a studiare e se sarà assolutamente il benvenuto perché noi di selci già ne capiamo poco figuriamoci di quell'Egizia lo dico senza problemi prima di concludere insomma queste sono giusto le fatiche insomma di cui andiamo orgogliosi tenete presente io ho cominciato a collaborare con il museo nel 2010 per cui insomma questo tira anche un po' le somme dei miei anni in museo abbiamo cominciato con questa mostra temporanea su Winkelmann e l'arte presso gli egizi noi conserviamo anche delle edizioni originali dell'epoca dei testi di Winkelmann per cui abbiamo estrapolato tutti i riferimenti all'arte egizia che si possono riassumere in una singola frase sì gli egizi erano bravi avrebbero potuto fare grandi cose però i greci erano meglio questo era in sintesi il pensiero di Winkelmann sull'arte egizia però è stato divertente vedere come nel suo studio dell'arte antica anche Winkelmann si fosse occupato di avere delle tavole di oggetti egizi e di occuparsi anche di quella cultura per quanto va detto non gli piaceva proprio l'anno successivo finalmente devo ammettere con grossa soddisfazione non solo mia ma anche della conservatrice del museo siamo riusciti a far pubblicare grazie a una donazione privata di una famiglia triestina quello che vi dicevo prima i triestini che si occupano delle proprie istituzioni quando l'istituzione non ce la fa grazie a una donazione privata siamo riusciti a far stampare il catalogo della collezione egizia sono quasi 300 pagine con 800 fotografie per cui il volume aveva un costo non indifferente e poi per pura soddisfazione personale l'anno dopo è uscita anche la mia piccola guida della collezione l'altro 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 giugno 2018 come vi dicevo all'inizio il nome non è sempre stato museo di antichità lo era in origine con il passaggio all'Italia il museo era diventato museo civico di storia ed arte perché ammassati nel museo non c'era solo la parte archeologica ma c'era la pinacoteca l'arte dell'estremo oriente tutta un'altra serie di collezioni che nel corso del novecento sono poi state divise creando degli appositi musei al momento i musei triestini sono 12 storico artistici e 5 scientifici più un archivio una fototeca e una biblioteca perché ve lo dico ve lo dico perché trovo importante anche rendere omaggio scusate vabbè questa sono io e va bene e io sono una collaboratrice esterna con partita IVA questa è la dottoressa Marzia Vidulli conservatore artista archeologo del museo e noi siamo l'intero personale scientifico di un museo da 50.000 pezzi crea delle difficoltà alle volte alle volte no alle volte è un vantaggio perché non devi confrontarti con tante altre persone e non perdi tempo a litigare alle volte è un problema e questa all'epoca era la direttrice di tutti i musei civici di Trieste quindi la cosa che volevo sottolineare era non solo rendere onore a tutti quelli che si trovano nel settore pubblico ad operare in condizioni di difficoltà di personale di fondi di collaborazione di supporto anche psicologico a volte da parte dei colleghi ma sottolineare come le città hanno questo problema in cui un unico direttore un'unica segreteria per 20 musei crea crea dei problemi tecnici non indifferenti e oltretutto i musei piccoli il mio non riesco a chiamarlo piccolo però i musei diciamo civici ecco dove le collezioni non sono vastissime almeno per singola area culturale hanno anche la difficoltà di attrarre dei progetti di ricerca grossi perché non c'è tanta roba da studiare per cui bisogna viaggiare e non abbiamo neanche le risorse per offrire posti ai ricercatori quindi alle volte c'è anche proprio un problema di mancanza dell'expertise quindi gli oggetti spesso non sono studiati nel migliore dei modi perché non riusciamo ad attirare gli studiosi ed è proprio per questo che volevo concludere dicendo spiegando il motivo per cui ho creduto moltissimo nell'idea di Christian di fare questo convegno perché trovo che queste siano le occasioni giuste per conoscerci perché conoscendoci riuscendo a vederci in faccia riusciamo anche a scambiare e a condividere quelle che sono le soluzioni trovate di volta in volta in situazioni particolari che magari a qualcun altro che si trova nella stessa situazione non sono ancora venute in mente per cui ancora una volta concludo ringraziandovi di essere qui di esservi impegnati nel vostro lavoro fino ad ora grazie grazie a tutti Grazie a tutti.